Un progetto a lungo termine che vedrà protagonisti giovani calciatori e dentro un paio d'anni acquisita esperienza e con qualche innesto puntare alla Serie D. Questo è il progetto dell'Albalcamo illustrato ieri pomeriggio nella sede del sottolizio al Bianconero, dove sono stati presentati coloro i quali hanno concertato col presidente Baldo Marchese e col vice Giuseppe Milotta i piani strategici dell'Albalcamo che avverrà. Una squadra di giovani con un organico per il prossimo campionato d'eccellenza rinnovato al 99%. La società dunque, anche per contenere le spese, ha deciso di fare letteralmente piazza pulita dalla squadra della passata stagione. Tra svingolate eccessioni sono tutti sul piede di cambiare maglia. E per il progetto giovani l'Albalcamo ha ingaggiato Giuseppe Guida, che ha esperienze in questi settori, che gli hanno regalato tante soddisfazioni sotto forma di vittorie in vari tornei. Giuseppe Guida, che lo scorso anno hanno allenato in promozione, ora si gioca la carta dell'Albalcamo, dove avrà nel campionato grande visibilità e che per lui potrebbe rappresentare una rampa di lancio. Io dico sempre che ho detto a mia moglie che a 40 anni sarei arrivata in eccellenza, dopo tante cavette ci sono arrivato. Adesso ho promesso alle mie figlie che entro i 50 arriverò nel calcio che conta e ci arriverò. Guida si è detto felice di allenare l'Albalcamo ed ha assicurato il suo massimo impegno e quello della sua staffe. Uno staffe tecnico composto dal vice di Guida che è già invito testa, preparatore atletico Angelo Provinzano, consulente per il mercato, Vincenzo Lagrua. C'è dunque grande fermento insieme all'Albalcamo, dove la dirigenza continua ad impegnarsi al massimo per continuare a far vivere il calcio ad Alcamo, ricco di storia e tradizione. Il nome calcistico di Alcamo è conosciuto in Sicilia e in tutta Italia. Ieri è iniziata anche la fase di messa a punto del ritiro precampionato, per presentarsi bene all'esordio nelle gare di Coppa Italia. Istituzioni e tefosi debbono stare accanto alla società e correre numerosi sui gradini del Catella, che è necessita della manutenzione del manterboso, della sistemazione degli spogliatori ai gabinetti. Tutti interventi del Comune, che vanno fatti velocemente per evitare di dovere emigrare nelle prime giornate a Castellammare del Golfo. Presto la società varerà la campagna abbonamenti, ma nel frattempo è già al lavoro per poter presentarsi col vestito nuovo ai prossimi impegni agonistici, Giuseppe Guida prende il posto di Riccardo Chico. L'Albalcamo, anche per la prossima stagione, si avvarrà della professionalità e competenza di Leonardo Duca, mentre un ruolo importante nel settore giovanile lo dovrebbe avere l'alcamese Massimo Pirrone. Quindi questo è il mio obiettivo, lo porterò avanti. Poi, come dico sempre, io nella mia vita mi piace sempre guardarmi allo specchio e non abbassare mai lo sguardo. Quando mi guarderò allo specchio potrò dire io ci ho provato. Poi se non avrò avuto la fortuna o la qualità per arrivare nel calcio che conta me ne farò una ragione, però di certo ci ho sempre provato in quello che ho fatto.